Anche la città di Sciacca ha avuto la possibilità di sostenere la raccolta di fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, promossa a livello nazionale dalla Fondazione Teleton. Lo ha fatto grazie all'iniziativa di Calogero di Liberto, project manager di Food Senza Glutine, che ha organizzato l'evento in collaborazione con AICE, Associazione Italiana Cooking Eventi, e Uldi Mollus di Mazzara del Vallo, Unione Italiana lotta alla distrofia muscolare. Io sto con Teleton, a Sciacca si è svolta sabato scorso in Contrada Ferraro. Protagoniste della giornata sono state diverse pietanze a base di prodotti senza glutine, la cui preparazione è stata affidata a tre rinomati chef, Giovanni Montemaggiore, Gianluca Interrante e Davide Deraco. Live show cooking a quattro mani, non a caso è stata denominata la loro performance. Due primi e dei dolci con ingredienti gluten free, accompagnati da un calice di vino, per una degustazione finalizzata a sostenere una causa importante, cioè, come si diceva, la ricerca per combattere le malattie genetiche rare. Non solo degustazioni nel corso della maratona Teleton presentata dalla giornalista Rosy Abruzzo, anche la toccante testimonianza di chi è affetto da malattie genetiche rare è l'intervento di due biologi nutrizionisti, dottori Salvo Loforte e Donatella Calcara. L'evento è stato ripreso integralmente dalla nostra emittente e andrà in onda nei prossimi giorni. Grazie.